E andiamo avanti con la musica internazionale perché vorrei parlarvi di una band che è nata una decina di anni fa in Svezia e brevemente è diventata una dei gruppi più famosi del mondo Il loro nuovo album si intitola Room Service, qui a Padova cantano Real Sugar e Roxette Il loro nuovo album si intitola Room Service, qui a Padova cantano Real Sugar e Roxette Grazie per la visione 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 Grazie per la visione